simona borroni buongiorno lei ha contribuito in qualità di autrice al corso online di novartis un corso focalizzato sul tema dell'emicrania intitolato migrano ner e ci vuole raccontare questa esperienza sì buongiorno innanzitutto grazie per avermi invitato a realizzare questa intervista l'esperienza di essere autrice di questo corso è stata un'esperienza molto significativa innanzitutto impegnativa perché si è trattato di condensare in 20 minuti un processo molto importante come quello della ricerca e sviluppo dei farmaci e anche ricco di molti spunti che meritavano di essere approfonditi quindi è stato necessario operare delle scelte su quali messaggi poi inviare su quali aspetti particolari approfondire e questo è stato l'aspetto molto positivo perché mi ha permesso in realtà di inviare dei messaggi importanti a mio a mio modo di vedere sia per quella che è la mia esperienza di caregiver di persone con malattia rara sia un po per la formazione che ho ricevuto durante il corso realizzato con l'Accademia dei pazienti e anche di focalizzare l'attenzione su aspetti che ho capito spesso non vengono molto portati all'attenzione dei cittadini ma sarebbero veramente meritevoli di essere portati alla loro attenzione per renderli più consapevoli di quanto i cittadini e i pazienti stessi possono contribuire in questo processo in merito al tema del paziente esperto che cosa significa per lei essere un paziente esperto eupati rispetto ad essere semplicemente paziente direi che sicuramente essere un paziente esperto eupati significa poter interagire in modo più efficace nei vari ambiti in cui un paziente si trova ad operare e anche nelle relazioni con i diversi stakeholders che un paziente che rappresenta anche una comunità come nel mio caso io sono il presidente di un'associazione di pazienti gruppo famiglia dravè si trova ad incontrare quindi sia gli enti regolatori che le case farmaceutiche che altre associazioni di pazienti con i quali noi interagiamo due cose mi sembrano molto importanti da sottolineare la prima è che avere più conoscenze e conoscenze molto precise ci porta a farci delle domande che che ci permettono poi di essere più efficaci nel nostro processo e quindi ad accelerare quelli che sono i quella che è la nostra azione verso realizzazione di obiettivi concreti dall'altra parte essere un paziente esperto mi ha fatto anche capire quanto è importante divulgare alcuni tipi di messaggi alla cittadinanza e alla popolazione quindi un ruolo che mi ha fatto anche capire che posso avere un ruolo che va al di là di quella che è la mia patologia e questo è molto importante perché ho capito come diffondere certo certi tipi di informazione sulla salute tra la cittadinanza può aiutare realmente a modificare i processi e risultati delle cure benissimo e simona senta lei è presidente dell'associazione gruppo famiglie dravè ci vuole parlare di questa onlus che le presiede sì il gruppo famiglie dravè è stato costituito 12 anni fa nell'ambito della federazione italiana epilessia siamo nati inizialmente come gruppo di famiglie che ha sentito l'esigenza di confrontarsi e di unirsi scambiarsi esperienze perché lo scambio di esperienze fondamentale nelle malattie rare soprattutto per la gestione e anche da un punto di vista psicologico per affrontare la malattia noi vediamo con i pazienti con le famiglie che hanno i bambini più piccoli che spesso sono combattute se unirsi al gruppo e quindi vedere anche il futuro dei propri figli oppure no perché a volte può essere anche spaventevole diciamo vedere certe prospettive abbiamo capito che invece chi si è unito a noi sin dal momento in cui i bambini erano più piccoli ha sempre avuto dei benefici e questo perché ci si rende conto che nonostante la gravità della malattia la famiglia può gestire tanti aspetti e quindi modificare la qualità di vita dei bambini quindi siamo nati intanto con questo intento il primo obiettivo è stato di costituire un network delle famiglie in Italia e di dare informazioni utili per la gestione della malattia molto pratiche poi man mano l'associazione si è evoluta negli ultimi dieci anni e abbiamo anche iniziato a sviluppare dei progetti di ricerca a finanziare progetti di ricerca scientifica attualmente ci stiamo rivolgendo sia al finanziamento di progetti per la riabilitazione dei tanti aspetti che implica la sindrome di Dravet che è una forma rara di epilessia farmacoresistente con associati disturbi dello sviluppo motori di comportamento e anche di aspetti cognitivi e linguistici e negli ultimi cinque anni abbiamo iniziato a lanciare dei bandi di finanziamento alla ricerca scientifica di finanziamento a progetti alla ricerca sulla sindrome di Dravet quest'anno abbiamo lanciato il nostro quinto bando sono bandi internazionali aperti a tutta la comunità scientifica e i progetti che pervengono all'associazione vengono valutati secondo il metodo della peer review da un comitato scientifico internazionale e poi cosa che ci rende particolarmente orgogliosi è un comitato laico formato da pazienti quindi da persone, da caregiver di persone con la sindrome di Dravet che seleziona il progetto finale da finanziare nell'ambito dei progetti raccomandati dal comitato scientifico e questo secondo noi è molto importante perché è importante che i bisogni più importanti per le famiglie siano indirizzati anche in questo tipo di attività quindi sono i pazienti qui a dire l'ultima parola su quali sono i progetti che l'associazione andrà a finanziare quest'anno in particolare siamo molto orgogliosi perché abbiamo potuto lanciare il bando in partnership con altre cinque associazioni europee per la sindrome di Dravet e questo secondo me in qualche modo è un riconoscimento che il lavoro che stiamo facendo è importante e siamo sulla strada giusta Benissimo, un'ultima domanda Secondo lei quali sono i prossimi passaggi necessari affinché il coinvolgimento del paziente sia ancora più diffuso? Sicuramente deve esserci un riconoscimento ufficiale dei pazienti con protocolli standard che permettano una reale opportunità per il paziente di agire in tutto il processo alla pari con gli altri stakeholders Penso che al di là poi di questo riconoscimento anche se vogliamo dire da un punto di vista di best practice sarebbe importante che fossero diffusi case history sue esperienze di pazienti che hanno potuto contribuire al processo in modo efficace ed effettivo un esempio per esempio per la federazione per la sindrome europea per la sindrome di Dravet anni fa ha potuto contribuire in modo molto efficace nella predisposizione di studi di protocolli clinici per la sperimentazione di farmaci raccogliendo in un survey quelle che erano le terapie utilizzate dai pazienti in ambito europeo e quindi con diverse centinaia di pazienti che hanno risposto la federazione ha potuto pubblicare quelli che erano i trattamenti in uso in Europa e questa è stata un'informazione utilissima per tutte le case farmaceutiche che andavano in quel momento a disegnare dei protocolli clinici e qui è l'importanza per il paziente di farsi la domanda giusta come posso intervenire in questo processo? qual è l'informazione che posso dare e che può cambiare veramente il processo e migliorarlo? quindi penso che la raccolta di questi casi e la divulgazione di questo tipo di esperienze possa essere un valido strumento per ampliare quella che è l'azione del paziente nell'ambito del processo di ricerca e sviluppo dei farmaci benissimo, Simona l'intervista è finita, la ringraziamo e in bocca al lupo per tutte le sue attività grazie, grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi